salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi facciamo un altro video test del fimi x8 anzi lo chiamerei il chiacchieratissimo fimi x8 nel video scorso abbiamo provato il tune to home abbiamo provato l'overing abbiamo provato l'active track anzi per quanto riguarda l'active track una cosa da dire ragazzi nel video scorso ho fatto vedere che andando incontro al drone il drone non indietreggiava invece c'è un'opzione da attivare questo mi è stato segnalato da utenti che ce l'hanno da più tempo di me che praticamente va attivata la funzione retromarcia a quel punto allora il drone indietreggia anche nell'active track è stato un errore mio dire che questo drone non faceva bene l'active track invece lo fa oggi ragazzi invece facciamo un cinematic video in una location carina ma non bellissima qua l'avevo fatto anche con l'autolivo magari ve lo lascio sopra nelle schede il video così magari fate un confronto della location filmata con l'autolivo o filmata con i film x8 perché comunque una delle cose che interessa di più a chi acquista questo drone ovviamente è la fotocamera oltre avere l'idea di come vola il drone di quanto è stabile tutte queste cose una delle cose per cui uno compra un drone di questo tipo è per fare video e per fare video belli ci vuole un drone che abbia una fotocamera buona in questo caso facciamo un cinematic video quindi avrete un'idea di questo drone come filma in 4k 30 fps lasciando tutte le postazioni in auto ragazzi prima di decollare volevo farvi vedere una funzione che mi ha segnalato un mio iscritto da do ed è una funzione secondo me molto interessante non so se funziona su tutti gli smartphone o dipende dal tipo di telefono in cui si utilizza l'applicazione navi però è una funzione molto interessante ragazzi la funzione di cui volevo parlarvi è questo nel mio caso lo sto utilizzando con un iphone xx max la funzione ragazzi è questa facendo uno slide verso sinistra con il dito l'applicazione diventa a tutto schermo abbiamo un'applicazione senza nessuna funzione che ci dà fastidio nell'immagine che andiamo ad inquadrare quindi una funzione secondo me carina può diventare anche utile però una cosa secondo me nuova almeno dal mio punto di vista ed anche interessante facendo uno slide verso destra ovviamente torna tutto come prima quindi ragazzi dopo che vi ho fatto vedere anche questa nuova funzione o meglio questa chicca di questa applicazione navi di fimi adesso possiamo decollare con questo fimi x8 se qui al lago del segrino una località interessante per fare un cinematic video quindi adesso decolliamo in 4k 30 fps e e e e Dovete descifrar il perché non stai dalle ma capire che ti vai senza non ven quédate che voglio intenzionare e non non che il Posso mi racconto è il tuo per te non Grazie a tutti. 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 Quindi ragazzi, se questo video in cui abbiamo parlato ancora di questo FIM X8 che vi ho fatto vedere un'idea di come registra la fotocamera di questo drone, che è poi la cosa che interessa a tutti quelli che vogliono acquistare un drone di questo tipo, registrare video. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere le potenzialità e la fotocamera della fotocamera del FIM X8 vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va. E ovviamente ragazzi iscrivetevi al canale YouTube e ci vediamo nei prossimi video, voli, test e recensioni, ciao!